Il campionato della Volley Soverato si è concluso da circa tre settimane ma è già tempo di programmare la nuova stagione quindi siamo con il Presidente Matozzo per fare il punto della situazione. Sappiamo che bisogna programmare per tempo il tutto per organizzarsi al meglio per un altro campionato che si annuncia ulteriormente difficoltoso e faticoso come è stato questo ultimo appena terminato. Ma di sicuro il prossimo campionato sarà faticoso perché probabilmente il progetto della FIPA di un campionato a 20 squadre si potrà realizzare quindi sicuramente è difficile e noi visto che questo Presidente ancora ha entusiasmo e vorrebbe di sicuro rifare un altro campionato dietro stiamo cercando di fare il punto della situazione che si ferma sempre al solito ostacolo. Anche quest'anno siamo puliti senza nessuno sponsor per cui la prima cosa da fare e da pensare in maniera seria e concreta è quello di chiedere aiuto a chi ce lo può dare perché caso contrario è facile puoi dire non hai raggiunto l'obiettivo e grazie. Se i mezzi sono quelli che ha solo il Presidente Matozzo i risultati sono quelli con i mezzi del Presidente Matozzo. Se invece oltre al Presidente Matozzo c'è qualcuno che ci dà una mano per aumentare il budget probabilmente riusciremo a costruire una squadra più ambiziosa, più forte e possiamo dare qualche soddisfazione in più anche perché io credo che siano maturi i tempi di avere assoverato un nuovo palazzetto. A proposito di palazzetto, nel frattempo però si dovrà giocare il prossimo campionato ancora al Palascopa quindi urgono i lavori di messa in sicurezza per evitare le spiacevoli situazioni verificatesi nelle ultime partite del campionato che hanno visto la squadra obbligata di fatto a giocare a porte chiuse così come anche le altre squadre della città di Soverato. Anche questo è stato sicuramente non qualcosa che ha giocato a favore della pallavolo Soverato anche perché noi ci siamo sempre vantati di avere il settimo giocatore in campo che era il nostro meraviglioso pubblico che penso non mancherà mai. Il palazzetto non è un problema, deve essere risolto questo problema ma si è verificato e chiuso e noi non possiamo correre il rischio di iniziare un campionato alla preparazione assoverato al Palascopa in condizione di criticità perché ormai è segnato, noi dobbiamo avere, io mi auguro che il sindaco Alecci tutta l'amministrazione si fanno carico della risoluzione di queste problematiche annose per la verità non sono certo di oggi, è un palazzetto che era così da una vita, lo sapeva la questura, la procura lo sapevano anche i musulmani che il palazzetto di Soverato era così, insomma non c'è necessità oggi è scoppiata, oggi bisogna rimediare, se, ed ecco il motivo per cui questa intervista deve essere sentita da tutti se si ha la voglia di tenere questo spettacolo, questo giocattolino che Matozzo insieme a tutti i miei dirigenti e tutta la società ha soverato uno, a tutti i tifosi abbiamo portato sicuramente ad altri livelli se lo vogliamo tenere e dobbiamo essere un tutt'uno per fare di tutto e per tenerlo e per tenere la serie A2, io lo dico fin d'ora al sindaco, lo dirò poi in privato parlando a trovarla al comune, la serie A2 deve essere difesa non possiamo essere succube di cambiamenti di orari, cambiamenti di calendario il calendario del campionato di serie A2 sarà pronto prima di tutti i campionati bisogna dire a tutte le altre squadre che si devono adeguare io la devo finire di dover montare o pregare e pagare a mezzanotte, a luna, il Taraflex noi sabato e domenica quando si giochi in casa il palazzetto deve essere per una squadra di serie A2 merita rispetto, con tutto il rispetto che hanno tutte le altre squadre e se non c'è capienza, chi non è disoverato deve avere la bontà di andare a trovare e giocare altrove non possiamo privare le squadre di soverato della disponibilità del palazzetto per fare tutto questo io mi affido del sindaco Alecci, dell'amministrazione per metterci nelle condizioni a fine agosto Pietro, stiamo parlando a metà maggio e i lavori devono iniziare mi auguro che inizieranno subito anche perché poi deve venire la commissione dei vigili per dare l'ok, ci sono tempi, arriva l'estate e noi d'estate in Calabria siamo sempre peggio dei messicani, ci riposiamo sempre e alla fine di agosto noi dovremmo iniziare la preparazione se mi mettono in condizione di non iniziare il soverato, di dover andare a ramengo in quale palazzetto che me lo dicessero oggi, io con tutta franchezza, i reggi tifosi, signori, amici non iscrivo la squadra al campionato di Serie 2, me ne vuole perché è una mia creatura e sono i miei soldi quelli che ho speso per arrivare a questo livello e mi farebbe veramente male dover dire non iscrivo la squadra al campionato di Serie 2 ecco queste sono le difficoltà, poi l'altra cosa, tutti dovremmo essere timonieri per tirare questa nave chiamata Serie 2 per far sì che avendo amici che producono che sono attività produttive in Calabria, posso darci una mano di sponsorizzazione io ho visto tantissime attività che sono veramente in gamba di eccellenza calabrese sponsorizzare sulle varie enti televisive che sicuramente avranno forse più visibilità della pallavolo ma ci meritiamo anche noi un aiuto, non abbiamo avuto nulla anzi lo confermo abbiamo avuto una promessa di contributo regionale pari a 5.000 euro promessa, ancora i soldi sul conto corrente non ci sono, però è una promessa dopo 9-8 anni di Serie 2 abbiamo preso una promessa di 5.000 euro per il resto non c'è nulla signore e allora cittadini di Soverato, cittadini vicini a Soverato imprenditori, piccoli e medi, la vogliamo tenere questa squadra mettendo un poco ciascuno non riusciremo a mantenere una squadra ad altissimi livelli e fidatevi di uno che dopo 9 anni Pietro, pur essendo un ignorante di pallavolo però un pizzico di esperienze per sapere in memoria ce l'ho pure io questi sono i fatti Facendo quindi un sunto di questa lunga risposta maggiore collaborazione tra le associazioni sportive di Soverato maggiore collaborazione nell'amministrazione un importante aiuto che potrebbe arrivare anche dai cosiddetti sponsor allora l'ultima domanda inevitabilmente riguarda appunto la programmazione della nuova stagione il budget a disposizione ovviamente è propedeutico alla pianificazione della nuova stagione quindi da lì poi partono anche gli aspetti tecnici e quindi su questi cerchiamo quantomeno di soffermarci su quali sono quantomeno le intenzioni al momento in questi giorni di maggio del presidente Matozzo sotto l'aspetto tecnico sappiamo che il presidente Matozzo prima di allestire la squadra opta sempre per la scelta del nuovo allenatore che è propedeutica poi all'allestimento del roster Di sicuro io da solo la squadra non l'ho mai fatta l'ho fatta sempre insieme all'allenatore oggi noi abbiamo avuto un allenatore bravo Barbieri abbiamo o telefonato probabilmente ci incontreremo mettiamo un po' sul tavolo quelle che sono state le criticità dell'anno scorso ci confrontiamo se ci sono tutte le condizioni per stare insieme perché no anche a me non piace cambiare sempre così come le giocatrici io ho detto a tutti per me siete tutti confermati fatemi sapere chi vuole rimanere ad oggi ancora non mi ha risposto nessuno ma comunque questo è dovuto al fatto che le vacanze sono scappate da Soverato subito perché è stata un'annata un pochettino stressata dall'altro canto io la la prima tranquillità la voglio dall'amministrazione comunale l'amministrazione comunale mi deve dire se vuole che a Soverato ci sia una squadra di serie 2 e che come tale va rispettata io rispetto tutte le altre società le altre squadre ma prima sceglie la prima squadra l'orario in palestra come è previsto dal regolamento poi gli altri si adeguano se arrivano a Soverato altre squadre dei paesi viciniori e devo stringermi spostare l'orario mi do e anticiparlo non ne posso più di queste cose io non lo faccio e non critico nessuno mi si dice noi vogliamo a Palazzetto di Soverato ficcare 10 società io ringrazio il sindaco mi prendo la squadra al primo offerente mi vendo il titolo e non faccio più nulla e Soverato rimarrà con le bocce di serie C di serie C2 e una squadra di categoria di serie A2 che tutte le altre città hanno l'orgoglio di avere l'orgoglio io ho Soverato questo da parte di chi deve e di chi comanda ancora non l'ho visto ho bisogno di vedere impegno per il Palazzetto impegno per questa squadra lo voglio vedere concretamente perché la passione di Matosso c'è ancora la disponibilità dei soldi di ieri non ci sono oggi ho bisogno di un aiuto l'impegno di chi è all'amministrazione e di chi può fare è anche quello di dire bene mi metto anch'io alla ricerca di una sponsorizzazione perché la palla a volo a Soverato non deve sparire questo è l'impegno che il presidente dopo tanti anni di sacrifici di tempo economici e probabilmente di qualche inizio di girrosi per tutte le arrabbiature che ho preso merita e merito rispetto se me lo danno questo rispetto scritto non più a parole scritto allora io faccio di nuovo un campionato di serie 2 di vertice che poi non siamo riusciti mai ad arrivare dove siamo arrivati però abbiamo sempre mantenuto la categoria piena e abbiamo avuto giocatori che sono andati tutti in a uno e abbiamo il migliore attaccante della sede A che nessuno conosceva a Soverato e viva Dio merito rispetto o no e allora datemelo questo rispetto all'amministrazione ad Ernesto glielo dico affettuosamente parlando senza critica e lo voglio soprattutto per dire la squadra di serie 2 non di Matozzo di Soverato merita rispetto e deve giocare in un palazzetto dove non deve fare un'ora e mezza per cedere mezz'ora per fare un favore alle altre no se c'è capienza se non c'è capienza non restringete il valore e il lavoro di una serie A2 che ha un costo che ha un'ora